La scuola è la scuola, ma oggi vorremmo chiedervi la discesa in campo di nuovo di dirlo scuso. Noi abbiamo parlato molte volte di venerdì, a questo punto sono escluso. La discesa in campo generalmente riguarda chi non è in campo, non è per la verità, l'aveva immaginato essere un altro ruolo, ma è pronta alla realtà dei fatti, a tutti i 20 uomini che sono al tutto di fronte alle opinioni che c'è in un territorio, il fatto che sia lui a mirare chi spiegherà il centro-sinistra pare che sia più gradivo e che ottenga più consensi. I sussaggi parlano del 30%, che però non consentirebbe una maggioranza per governare. Bisogna vedere quale sarà la legge elettorale e soprattutto bisognerà vedere se ci saranno due coalizioni in campo o tre. Discutere di due coalizioni significa ovviamente che chi vince per un euro con il 50%. Se invece le coalizioni sono tre, come probabil, in questo caso probabilmente si vincerà con il 35% o il 40%, quindi se il PDM da solo può attingere un vaccino elettorale del 30%, insieme ai suoi alleati può giocarsi la mattina e questo è un fatto molto positivo. Credo che Perlusconi abbia dimostrato più volte che il PDM è un personaggio politico. Non è un personaggio politico che si autocandida per il piacere di autocandidarsi. Ogni volta che scende in campo può fare per cercare di vincere. Ma c'è sempre l'incognita Grillo che raccoglieva gli scontenti del PDM. No, questa è una, come dire, è il frutto, questa affermazione, è il frutto di un'analisi sulla composizione di chi vota a Grillo e c'era una parte di quelli che votavano a Grillo. Ma io ritengo che l'analisi più veritiera, più rispondente alla realtà è quella che fa riferimento a un 50% di elettori che per adesso o non vuole andare a votare o non si esprime. Il grosso di questo 50% viene dal centro-destra. Questo cosa significa? Intanto che chi sceglie lo fa in maniera convinta, cioè coloro che dicono di votare per questi o per quelli lo fanno in maniera convinta. Che quelli che votano contro il popolo della libertà e contro il centro-destra si esprimono senza dubbio. E coloro che non vogliono votare o non vogliono o si astengono per andare a votare sono per lo più appartenenti al centro-destra. Significa che se l'offerta politica è buona possono tornare a votarci. Va bene. Quindi diciamo che nel gioco del risico ormai i carri armati sono disposti. Vedremo cosa diciamo che tutti quelli che sono contro il centro-destra si esprimono e che il 50% che non si esprime tendenzialmente se c'è una buona offerta politica da parte del centro-destra possono votare per noi. Cioè siamo in un momento dove la temperatura è alta e quindi chi è contro si esprime senza problemi. Si immagina che è contro il perlusconi che fa un po' a votare ma dice chiaramente che vota contro il perlusconi o contro il perlusconi. Quelli che dicono che non vogliono andare a votare o che si vogliono astenere sono generalmente elettori del centro-destra che sono stati delusi, che non sono stati contenti di quanto l'uomo il centro-destra ha governato. C'è una serie di elementi che con una buona offerta politica, con un programma chiaro, con un riconquistato entusiasmo, con un programma di governo spendibile possono tornare a votare del centro-destra. Ultima domanda e poi la lasciamo libero a parte. È chiaro che rimane però aperta la partita del delfinanzi di questo scuolo. Questa è una considerazione che funziona per i sistemi autoritari. Io scherzando dico sempre che i sistemi autoritari si pongono nel problema del Delfino, cioè del Duce 1, Duce 2, Duce 3. Le democrazie... Le democrazie, questo problema, è un falso problema, in effetti, come dire, è il sintomo di un ritardo culturale che non è proprio dei sistemi democratici. Le democrazie risolvono i problemi nel momento in cui si pongono, è la caratteristica delle democrazie. I sistemi autocratici o autoritari si pongono nel problema di chi verrà a dormire. Perché siccome vivono la luce carismanica del leader nel momento, già durante questa fase, dicono ma poi che succederà? La democrazia non si pongono in termini di leadership il problema del dopo, perché i processi democratici, il ricorso al corpo elettorale, la scelta degli elettori, come dire, è tale che risolve il problema. Le leadership vengono da soli e infatti rivediamo che in tutte le democrazie normali, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia non più vera, è un problema che non esiste, perché le democrazie trovano sempre le risorse da metterle in campo per affrontare le competizioni. E' un vecchio redaggio, quello delle rene, quello del delfino, quello di chi deve continuare, tra virgolette, ciò che ha fatto colui che ha iniziato un'epoca, il conducatore, ecco, nelle democrazie non funziona così. Quando supereremo questa fase, tutti quanti, quando la stampa, tutti quanti supereranno questa fase, capiranno che in democrazia chi ha filo d'esse è al momento opportuno scende in campo e si dimostra l'altezza. E se davvero all'altezza vince, diversamente vince l'avversario, ma è così che funziona senza che giunghi i termini dei drammi. E' come dire, in democrazia bisogna occuparsi intanto di risolvere i problemi, poi si è dramma. Che è quello che la gente vuole? Signori, lasciamolo libero, tutti lo stanno aspettando. Ringraziamo il senatore Nannini, ha aperto una volta di salutare. Alla prossima. Ciao, ciao.